Ciao a tutti e bentornati sul canale Allora oggi ho già preparato qui questo bel piantone di cibo cinese Ci tengo a precisare che è tutto fatto in casa, sia i ravioli che il simil risotto alla cantonese E qui ho della salsa di soia per intingere i ravioli Di qua ho le pacchette e ho comprato questa forchettina in bambù Perché con quelle classiche andando a sbattere contro i piatti insomma era molto fastidioso per l'SMR Invece questa è molto più delicata Ora, ma lui è sempre qua dietro che ci fa compagnia Vado a rompere questo perfetto tortino che ho creato Perché sono curiosa di assaggiare com'è venuto Secondo me non ho trattato correttamente l'uovo Però è buono Tra l'altro se sentite sbattere sono i muratori, dovete portare pazienza Ma fanno la pausa pranzo alle 11.30 Io non lo so Buono Buono Ma il pezzo forte sono i ravioli Allora gli ho fatti piccini piccini Così riesco a fare un bucone unico Io li amo Partiamo dal presupposto che la mia ricetta è inventata Cioè li uso Oddio Li uso come ricetta su hot a frigo praticamente Il ripieno quindi non sono proprio cinesissimi In questo caso avevo del porro No zucchine No zucchine no carote Poi ci ho messo una patata perché ce la metto sempre E come carne ci ho messo della semplice carne moccinata Adoro Tra l'altro scusate ma potete fare un appunto sul mio impiattamento alla Masterchef A proposito di Masterchef Voi lo state guardando? Io ho messo una patata 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 Comunque dicevo Io lo sto guardando Masterchef Mi piace molto come format di programma in generale Diciamo che in generale I programmi in cui ci sono persone che inseguono i propri sogni Diciamo Mi piacciono sempre molto Cucinare è una passione per queste persone Una passione davvero forte e radicata E la maggior parte di loro partecipa per dare una svolta alla propria vita E mi commuove sempre molto questo Perché penso che nella vita fare ciò che ci piace Ciò che ci appassiona sia la cosa più bella del mondo E ieri è stata la puntata in cui è uscito Max E mi ha dispiaciuto tantissimo E mi ha dispiaciuto tantissimo Oggi ho semplice acqua Comunque a me è molto dispiaciuto Perché c'eravamo tutti affezionati a Max È un personaggio davvero simpatico Io ho semplice di quelli che sono rimasti adesso io dico Aquila che secondo me oltre ad essere uno dei più bravi è anche uno dei più umili e è una qualità che mi piace sempre molto soprattutto in queste competizioni in cui nessuno è professionista nessuno è arrivato quindi un po' di umiltà ci sta il mio preferito che però ormai è uscito era Cristiano Cristiano secondo me era una persona proprio bella anche se ultimamente nelle puntate prima di uscire secondo me aveva iniziato a crederci molto molto meno infatti partiva già sconfitto e non mi è piaciuto tanto quell'atteggiamento lì non credeva molto in se stesso poi è anche vero che è un programma un po' particolare nel senso che tante volte mi capita che dei personaggi che all'inizio mi stavano simpatici mano a mano che il programma va avanti cominciano a sopportarli e viceversa dei programmi che all'inizio dei personaggi scusate che all'inizio non non mi convincevano più di tanto poi diventano i miei preferiti è stato a cui non è stato un esempio perché all'inizio a pelle non mi piaceva e invece adesso spero con tutto il cuore che vinca invece un personaggio che all'inizio mi piaceva e adesso non riesco più a tollerare è Federica non so perché ma all'inizio tra le donne era quella che preferivo adesso non lo so ho un atteggiamento che non non mi convince proprio tra le ragazze quelle che preferisco sono Irene a livello proprio anche umano e azzurra secondo me è molto 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 brava forse la più brava tra le donne che sono rimaste sono quasi sicura però che in finale arriveranno Antonio anche se è proprio saggente a livelli no sarà pure bravo ma no e secondo me ci fanno arrivare anche aquila per i contrasti che hanno tra di loro no che hanno questa sorta di lotta interna e poi ci faranno arrivare una ragazza ammesso sempre che i finalisti siano tre perché a Mother's Share non si sa mai niente me lo sto proprio godendo questo pranzetto tra l'altro alcuni dei colpi che sentite è anche il vento perché c'è un vento pazzesco in questi giorni e mi spatte la zanzariera contro la porta finestra ormai queste scene non le toglie nemmeno più tanto siamo fra di noi non le toglie direi che la forchettina in bambù è approvata non fa fastidio direi che la forchettina è approvata adoro fallemente allora ragazzi di sotto stanno secando qualcosa quindi portate pazienza ma niente è stato un video molto rumoroso ma spero che vi sia piaciuto e soprattutto spero di avervi tenuto compagnia io come al solito vi auguro tantissima serenità e se il video vi è piaciuto vi aspetto al prossimo un bacione